Ben trovati a tutti ragazzi, allora in questo video proverò a spiegarvi in modo chiaro ed esaustivo quello che è il calcolo del gradiente di una funzione appunto in due variabili nel caso appunto delle derivate direzionali. Intanto mi permetto di fare qualche cenno teorico prima di passare agli esercizi. Infatti noi possiamo definire il gradiente di una funzione nel punto P come il vettore che raccoglie le derivate parziali rispetto a ciascuna delle variabili nel punto considerato. Quindi come si vede un po' dalla grafica, ma vedremo ancora altri grafici, se io effettivamente ho una funzione, prendo un punto P di questa funzione e scelgo un vettore V in una certa direzione, ovviamente il gradiente è appunto rappresentato da questo vettore e che poi come ben vedete la sua proiezione sul piano XY sarà questa, le cui componenti saranno proprio le derivate rispetto a X e ad Y. Quindi è opportuno in questo caso ovviamente definire il concetto di derivate direzionali, cioè la derivata lungo una qualsiasi direzione individuata da un vettore V. Allora, pertanto, come si sa, le derivate direzionali, per quanto riguarda le derivate direzionali del gradiente, si ha F, una funzione da valori in ω sotto insieme di R4 a valori in R, con ω un insieme aperto, il punto P, ovviamente di coordinate X con 0, Y con 0 appartiene ad ω, prendiamo anche in considerazione un vettore V di componenti V1 e V2, con la norma del vettore, cioè la lunghezza di questo vettore uguale a 1, cioè si intende il vettore unitario. Ovviamente se il vettore non è unitario, attenzione ragazzi, che è diverso da 1, la lunghezza ovviamente del vettore è diverso da 1, bisogna normalizzare il vettore e si normalizza in questo modo, quindi il vettore è normalizzato, le sue componenze danno V, ok, fratto la norma di V. In questo modo, allora, intanto precisiamo questa cosa che viene di solito poco chiarita, perché è importante normalizzare il vettore, cioè rendere il vettore unitario? Beh, la normalizzazione del vettore nelle derivate direzionali è essenziale, ragazzi, per ottenere un significato davvero chiaro e coerente proprio della derivata direzionale. Questo perché normalizzando il vettore, ok, se io normalizzo il vettore V, mi assicuro che la derivata direzionale rappresenti effettivamente il tasso di variazione, il tasso di crescita, come vedremo, il tasso di crescita appunto per unità di distanza percorsa, sempre nella direzione del vettore, intanto a noi interessa la direzione ovviamente, è chiaro? Quindi se io normalizzo il vettore, ovviamente questo mi fornisce una misura standardizzata e indipendente dalla lunghezza del vettore, cioè il calcolo del gradiente, se io non normalizzo ovviamente il vettore, ad esempio c'è un vettore molto lungo, questo mi potrebbe dare un'idea falsata della crescita della funzione, della reale crescita della funzione in un determinato punto, perché se il vettore è molto lungo io posso avere dei valori, diciamo, importanti, consistenti, che poi non mi rappresentano effettivamente la crescita della funzione in quel determinato punto e in quella direzione. Normalizzando il vettore invece io standardizzo, no, per unità di misura la crescita veramente della funzione, cioè mi dà un'idea più chiara, realistica, di quanto la funzione si impenna o cresce in quel determinato punto. E quindi ecco che questo, il calcolo del gradiente lungo le derivate direzionali, mi implica la normalizzazione del vettore. Quindi definiamo la derivata direzionale di f, il formalismo è questo, la derivata di f nel punto x con 0 e y con 0 lungo il vettore v sarà dato come il limite per h che tende a 0, adesso vedremo chi è questo h, vedremo insomma le varie componenti che entrano in gioco, di f di x con 0 più h v con 1, ovviamente il vettore, la componente standardizzata, v con 2, la seconda componente, chiedo scusa, normalizzata, meno f di x con 0 e y con 0 tutto fratto h. Ovviamente se f ammette derivate parziali prime, cioè esiste il gradiente in x con 0 e y con 0, allora un altro modo per calcolare il gradiente è proprio questo, cioè la derivata di f nel punto x con 0 e y con 0 lungo il vettore v sarà dato appunto dall'operatore nabla, quindi dalle derivate parziali della funzione nel punto x con 0 e y con 0, quindi calcolate nel punto x con 0 e y con 0 per il vettore v ovviamente opportunamente normalizzato, ok? Qui giusto per renderci un'idea, vedete, allora questo è un pezzo di funzione magari, questo è il nostro punto P appartenente, vedete, all'omega, ok? Questa è il vettore, la direzione scelta, io lungo questa direzione voglio vedere quanto la mia funzione ovviamente si impenna, ok? Il tasso di crescita, ecco, o decrescita. E quindi il gradiente, ok? Che è questo, questo vettore, la lunghezza di questo vettore, la lunghezza di questo vettore ci dà appunto l'idea di quanto la funzione sia ripida in quel punto. Vedete, qui c'è un altro disegno, quindi questa è, diciamo, la nostra funzione, questo è il punto P proiettato sull'asse xy, questa è la direzione, il vettore v, la direzione scelta, ovviamente il punto P avrà la coordinata x con 0, y con 0, z con 0, ma proiettato nel piano ovviamente z sarà uguale a 0, questo è il vettore v e queste vedete h con a e h con b, quindi sono le componenti del vettore lungo le x e lungo ovviamente le y, che sono poi i parametri che noi andremo a calcolare quando effettivamente andremo a valutare il gradiente. Ma detto questo, e spero in tutta facilità di essere stato chiaro, andiamo a vedere un paio di esercizi e vediamo come funziona il tutto. Allora, calcolo del gradiente sempre nel caso delle derivate direzionali. Allora, ragazzi, noi abbiamo questa funzione f di xy, che è x quadro più xy meno 2, vogliamo calcolare il gradiente nel punto P di coordinate 1, 0, nella direzione scelta v, quindi il vettore di componenti di coordinate 2 e 1. Mi sono permesso qui di fare un approccio grafico della nostra funzione, questa funzione è x quadro più xy meno 2, il punto P è questo, quindi si parte dal punto, vedete, questa è la serie x dal punto 1, 0, e questo è il nostro punto, e il vettore v di coordinate 2 e 1, vedete, 2 e 1, che è questo. Benissimo. Allora, cosa si va a fare, ragazzi? Allora, intanto la regola, ok, per calcolare il gradiente è questa. Questo è il primo formalismo, ok, che abbiamo già visto precedentemente. Allora, il vettore è questo, intanto mi normalizzo il vettore, quindi il vettore sarà uguale, il vettore normalizzato, a v fratto la norma di v. La norma di v la vado a calcolare, quindi sarà data da 2 al quadrato più 1 al quadrato, quindi 4 più 1 sarà uguale alla radice di 5, quindi il vettore normalizzato sarà cosa, ragazzi? v fratto la norma, quindi sarà 2, vedete, 2 fratto radice di 5 e 1 fratto radice di 5, che volendo potete anche razionalizzare. Io non l'ho fatto perché non c'era l'effettiva esigenza. Comunque, si può razionalizzare tranquillamente. A questo punto, la derivata di f lungo il vettore v, nel punto considerato di coordinate 1, 0, sarà il limite per h, che tende a 0, di f di x con 0 più hv con 1. Allora, x con 0 è 1, perché ricordiamoci che il punto è 1, questa è la x con 0, più 2 sul radical 5 per h, quindi ho preso il vettore normalizzato, ok, virgola, x con 0 più v con 0 h, questo per quanto riguarda la y, quindi abbiamo y con 0 che è 0, quindi non ho messo nulla, 1 sul radical 5 per h, perché 1 sul radical 5 è appunto la seconda componente normalizzata, meno la funzione calcolata nel punto 1, 0 fratto h. Questo è il formalismo. All'atto pratico avrò il limite, ok, un attimo che ingrandisco, perfetto, avrò il limite per h che tende a 0, di cosa? Beh, ragazzi, devo andare a sostituire alla x e alla y i rispettivi valori, quindi sarà x quadro, quindi 1 più 2 sul radical 5 per h al quadrato, più 1 più 2 sul radical 5 per h, la x che moltiplica la y, che è 1 sul radical 5 per h, meno 2, e questa è la f di x con 0 più hv1, y con 0 più hv2, poi meno la funzione calcolata nel punto 1, 0, la f di 1, 0. Se vado a sostituire alle x 1 e alla y 0, avrò 1, meno 2 fa meno 1, col meno diventa ovviamente più, quindi più 1. Alla fine vado a fare un po' di conti, vabbè quella di binomio e via dicendo, ovviamente vado a delidere 1 e meno 1, mi rimane tutto in h, raccolgo h, questi sono passaggi algerici, ho fatto il raccoglimento al fattore comune, quindi molto banale, e quindi alla fine h si semplifica, per h che tende a 0, questo valore va a 0, mi rimane 5 sul radical 5, che ovviamente è razionalizzato, mi diventa radice di 5. Ovviamente notiamo che la nostra funzione è differenziabile in 1, 0, e quindi posso anche fare il prodotto scalare tra il gradiente in 1, 0, la formula che abbiamo visto prima, e il vettore normalizzato 2 sul radical 5 e 1 sul radical 5. Questo è un approccio molto più immediato, più veloce, però attenzione che i docenti all'università vi potrebbero chiedere o questo approccio, oppure direttamente questo, oppure vi lasceranno libero arbitrio, quindi io consiglio sempre di usare questo che è molto più veloce, effettivamente cosa si fa? Ragazzi, devo fare il prodotto del gradiente nel punto x con 0, y con 0 per il vettore normalizzato. Allora cosa faccio? Vado a calcolare le derivate parziali rispetto a x e rispetto a y, ed eccole qua. Le vado a calcolare nel punto 1, 0, quindi alla x vado a sostituire 1, alla y, 0, quindi 2 per 1 fa 2, più 0 è 2, ed eccolo qua. E poi vado a sostituire sempre alla x il valore 1, e quindi avrò 1. Fare il prodotto scalare fra queste due quantità significa fare quindi il prodotto fra 2 e 1, quindi quello che è il gradiente calcolato nel punto x con 0 e y con 0, per il vettore normalizzato, le componenti del vettore normalizzato, che sono 2 su radica 5 e 1 su radica 5. Effettivamente 2 per 2 su radica 5 fa 4 su radica 5, più 1 per 1 su radica 5 fa 1 su radica 5, e quindi avrò 5 su radica 5, che razionalizzato mi ridiventa di nuovo radice di 5. Quindi come vedete abbiamo ottenuto lo stesso risultato. Questo ci sta di indicare anche che non abbiamo sbagliato calcoli, cosa che a me personalmente ogni tanto, anzi spesso e volentieri, succede, perché sono sempre molto distatto. Voi però non dovete essere distrutto. Attenzione. Facciamo quest'altro esercizio. Calcolare il gradiente della seguente funzione lungo la direzione e il punto indicato. Abbiamo questa funzione e alla x coseno di y nel punto P di coordinate 0, 0 nella direzione v1, 2. Quindi vogliamo calcolare questa nostra funzione. Ragazzi, vogliamo il punto P, 0, 0, e questo, quindi dall'origine degli assi, questo è l'asse x e questo è l'asse y. Questa è la nostra funzione. Vogliamo calcolare il gradiente, quindi vogliamo vedere il tasso di variazione, di crescita della nostra funzione in questo punto e lungo questa direzione. Ovviamente attenzione che il grafico può trarre in inganno, quindi va fatto il calcolo matematico. Io come al solito vi ho fatto i due approcci, i due formalismi, che di solito si usano per questo calcolo. Quindi, cosa facciamo? Normalizziamo come al solito il nostro vettore. Il nostro vettore, anche in questo caso, la sua norma è uguale a radice di 5, quindi il vettore normalizzato sarà 1 su radice di 5 e 2 su radice di 5. È al contrario di come era nell'esercizio precedente. Comunque, vado a calcolare il gradiente di f lungo il vettore v nel punto 0,0 e quindi, come ho fatto prima, ragazzi, avrò il formalismo e questo, il limite per h che tende a 0 della funzione calcolata in x con 0 più h v, ma x con 0 vale 0, quindi non ci ho messo nulla. Un attimo che ingrandisco. Ok. Allora, x con 0, quindi non c'è nulla, quindi avrò 1 su radica 5 per h, quindi la prima componente per h e poi 2 su radica 5 per h la seconda componente perché sempre y con 0 vale 0 meno la funzione calcolata in 0,0 tutto fratto h. Quindi, abbiamo il limite per h che tende a 0, vado a sostituire alle x e alle y i rispettivi valori, quindi avrò e elevato a 1 su radica 5 per h coseno di 2 su radica 5 per h, quindi alle x e alle y ho sostituito queste quantità, meno 1 perché la funzione del punto 0,0 e elevato a 0 vale 1, il coseno di 0 vale sempre 1, 1 per 1 fa 1, quindi meno 1, tutto fratto h. Ovviamente, ragazzi, con questo limite io otterrò la forma indeterminata 0 su 0, quindi posso automaticamente usare il teorema di De L'Hopital, quindi derivando il numeratore e il denominatore, quindi la derivata del numeratore, attenzione che abbiamo una funzione per un'altra funzione, se non ho sbagliato qualche conticino sarà questa, quindi la derivata della prima funzione, quindi 1 su radica 5 per e elevato a 1 su radica 5 per h coseno di 2 su radica 5 per h, meno, ovviamente, poi la derivata della seconda funzione che è 2 su radica 5 seno di 2 su radica 5 per h per la prima funzione non derivata che è questa. Ovviamente, andando a sostituire, ovviamente, la derivata di h qua sotto è 1, quindi è sottointeso, andando a sostituire il valore 0 ad h, otterrò e elevato a 0 che fa 1, il coseno di 0 che è sempre uguale a 1, quindi moltiplicato per 1 su radice di 5 mi rimarrà 1 su radice di 5, perché qui avrò il seno di 0 che vale 0, moltiplicato per qualsiasi cosa è sempre 0. e quindi, ragionalizzando, avrò radica 5 fratto 5. Ovviamente, la nostra funzione ci rendiamo conto che è differenziabile nel punto 1, nel punto 1, 0, in realtà, chiedo scusa, qui ho sbagliato, è il punto 0, 0, nel punto 0, 0, e quindi, il vettore è, in questo caso, 1, 2, allora posso, ovviamente, fare il prodotto scalare tra il gradiente in 0, 0, e il vettore 1, 2, la forma è sempre questa, quella che abbiamo visto nella parte teorica, la forma del gradiente, quindi cosa faccio, ragazzi, faccio le derivate della nostra funzione rispetto a x, e rispetto a y, la calcolo nel punto 0, 0, ovviamente, questa mi darà in uscita 1, e questa mi darà in uscita, ovviamente, 0, perché il seno di 0 è sempre 0, e quindi, cosa avrò, avrò che, il prodotto scalare, tra il gradiente, e il vettore v, ovviamente, il vettore, ragazzi, lo intendo sempre, il vettore normalizzato, quindi, cancelliamo la freccetta, ci mettiamo il vettore v, sempre normalizzato, e quindi avrò, 1, 0, quindi il gradiente calcolato nel punto 0, 0, per 1 su radical 5, e 2 su radical 5, quindi, avrò 1, per 1 su radical 5, che fa 1 su radical 5, più 0, perché questa quantità fa sempre 0, e quindi, avrò riottenuto, di nuovo, radical 5 fratto 5, cioè, è questa quantità razionalizzata, quindi, abbiamo riottenuto lo stesso, vedete, lo stesso risultato, quindi, siamo sicuri di aver fatto bene, passiamo, comunque, ad un ultimo esercizio, giusto per non farci mancare nulla, vediamo, in questo caso, che non abbiamo, non ammette gradiente, ma lo vediamo, anche dalla funzione, in questo caso, allora, abbiamo questa funzione, ragazzi, f di xy, uguale alla radice del valore assoluto, di x quadro, meno xy, vogliamo calcolare, il gradiente, nel punto P, di coordinata 0, 0, nella direzione, v 1, 1, quindi, il nostro vettore, direzione 1, 1, allora, ragazzi, attenzione, la figura è questa, come vedete, punto P, 0, 0, è questo, il vettore, v di coordinata, 1, 1, è questo, e vedete, che proprio lungo questa direzione, questa funzione, non ha crescita, perché, vedete, qui va a livello 0, qui cresce, poi qui cresce, ma proprio lungo questa direzione, la funzione non ha alcuna pendenza, alcuna crescita, andiamo a verificare, come al solito, ragazzi, prendiamo il vettore, normalizziamo il nostro vettore, come già sappiamo fare, e quindi, il vettore, la norma del vettore sarà, 1 al quadrato, più 1 al quadrato, ossia radice di 2, quindi, il vettore normalizzato, avrà componenti, 1 su radical 2, e 1 su radical 2, uso il formulone, quindi avrò il limite per h, che tende a 0, di, il punto 0, x con 0, e y con 0, valgono 0, quindi avrò, 1 su radical 2 h, 1 su radical 2 h, sia per la x, che per la y, meno la funzione calcolata in 0, 0, tutto fratto h, questo, vale a dire, che, avrò il limite, chiedo scusa, questo non c'entra niente, questo non c'entra niente, questo, ok, avrò il limite, per h, che tende a 0, della radice di, del valore assoluto di, un mezzo, h quadro, perché, ricordate che è x quadro, quindi questo, se lo faccio al quadrato, per h, ovviamente diventa, h quadro, fratto radice di 2 al quadrato, fa 2, meno, x per y, di nuovo, un mezzo h quadro, ovviamente, questo limite, è chiaramente, uguale a 0, perché questa quantità, già va a 0, immediatamente, è uguale a 0, e quindi, essendo uguale a 0, mi rendo conto, che la funzione, lungo il vettore v, non ammette, alcun gradiente, come d'altronde, si evince, si nota, dal grafico, ragazzi, vedrete, in alcuni esercizi, molte volte, nello svolgimento, alcuni esercizi, che trovate in rete, non normalizzano, molte volte, il vettore, è chiaro, cioè, lo lasciano così, così come, però, in realtà, diciamo, formalmente, vi posso dire, che non è sbagliato, ma tecnicamente, lo è, perché, non mi dà, l'effettiva, l'effettivo, tasso di crescita della funzione, bisogna sempre normalizzare, il vettore, per avere, dei dati più coerenti, e realistici, ragazzi, io, di vero cuore, spero di essere stato chiaro, e niente, quindi, ci vediamo al prossimo video, dove tratteremo, invece, il piano, il piano tangente, ad una funzione, in due variabili, grazie, ragazzi, arrivederci,